Buongiorno, un altro video sul logaritmo, sul numero della ragione. Ricorderete nel video precedente abbiamo spiegato come nasce la funzione logaritmo. Basta chiedersi, dati due numeri, per esempio 2 e 8, quante volte dobbiamo moltiplicare il numero 2 per se stesso per ottenere 8. Nel caso specifico otteniamo 3. 2 per 2 per 2 vale 8. E quindi diremo che il logaritmo in base 2 di 8 è uguale a 3. Osserviamo che moltiplicare il numero 2 per se stesso 3 volte equivale a dire che 2 elevato alla terza è uguale a 8. Insomma, la funzione logaritmo è la funzione inversa della funzione potenza. Va bene, ed è con le potenze di 2 che giocheremo per semplificare l'operazione di moltiplicazione. Immaginiamo infatti che qualcuno abbia realizzato delle tabelle in cui alla colonna di sinistra ci siano i valori dei logaritmi, quindi degli esponenti del numero 2, e sulla destra ci siano le potenze di 2. 2 alla seconda, 2 alla terza, 2 alla quarta e così via. E supponiamo di dover realizzare il prodotto di due numeri. La moltiplicazione è semplice, non è da fare. E allora usiamo questa tabella per trasformare la moltiplicazione in addizione. Semplicemente andiamo a cercare i due numeri nella colonna di destra e poi andiamo ad identificare i rispettivi logaritmi nella colonna di sinistra. Andiamo quindi a sommare i logaritmi e ci accorgeremo che procedendo a ritroso, a partire dalla somma dei logaritmi, ebbene riusciamo a trovare che cosa? Il risultato della nostra operazione di moltiplicazione. Insomma i logaritmi trasformano le moltiplicazioni in addizione. Questo è quello che abbiamo spiegato in maniera più dettagliata nel video precedente. Qualcuno però si sarebbe potuto chiedere vabbè ma io nella mia tabella, nella colonna di destra, ho le potenze di 2 e l'esempio fatto è stato fatto con due potenze di 2, 32, 512, ecco perché le ho trovate. Ma io devo poter fare una moltiplicazione tra una coppia qualsiasi di numeri che non siano necessariamente potenze di 2 e allora come si fa? E sì, effettivamente è vero. Supponiamo per esempio di dover fare una moltiplicazione che coinvolga il numero 18 e di avere a disposizione la tabella dei logaritmi con base 2. Ebbene ci accorgiamo che il numero 18 non c'è e che i numeri più vicini al numero 18 sono il 16 e il 32. Insomma dovremmo realizzare un'approssimazione con un errore non proprio trascurabile, non va bene così naturalmente, dobbiamo chiederci se c'è una base migliore del numero 2 da utilizzare. E allora proviamo per esempio, se abbiamo provato col 2 proviamo il 3. Che cosa succede? Allora costruiamo una tabella dei logaritmi che abbiano come base il numero 3. Di nuovo sulla colonna di sinistra abbiamo i vari logaritmi, 2, 3, 4 eccetera eccetera, su quella di destra avremo 3 moltiplicato se stesso 2 volte, 9, 3 moltiplicato se stesso 3 volte e così via. Ebbene naturalmente va peggio di prima, perché se quando avevamo costruito la tabella con la base 2 avevamo che ogni numero era il doppio del precedente, ebbene qui addirittura ogni numero è il triplo del precedente, quindi la distanza tra numeri consecutivi è maggiore e quindi l'errore che vado a commettere nell'identificare un numero generico di anni massima presumibilmente sarà più elevato. No, non va bene neanche con il 3. E allora se non va bene aumentando il valore della base, proviamo a diminuirlo. Aviamo provato con il 2, proviamo con un numero più piccolo e quindi con il numero 1. Ma attenzione, 1 moltiplicato per se stesso restituisce ancora 1, moltiplicato per 1 fa 1, insomma la riga di destra, quando considero come base il numero 1, è fatta di tutti i numeri uguali ad 1. E allora che si fa? E niente, dobbiamo per forza utilizzare un numero decimale, un numero che sia compreso tra 1 e 2. Vediamo che succede, per esempio il numero 1.1. E allora se consideriamo 1.1, effettivamente 1.1 per se stesso fa 1,21, per 1.1 fa 1,33, eccetera, eccetera. Insomma ci accorgiamo che finalmente sì, va molto meglio. Vedete come cresce lentamente la colonna di destra e come la differenza tra valori consecutivi non sia così elevata, no? Perché ogni numero è 1,1 volte il numero precedente. E quindi sì, nell'andare a reperire un numero nella valora di destra commetterò un errore non così elevato, non solo. Ma se invece di scegliere 1,1, scelgo un numero più piccolo, per esempio 1,01, e beh andrà ancora meglio. Guardate quanto sono vicini, quanto sono prossimi due valori consecutivi. E ma allora perché non scegliere 1,001? Perché non scegliere 1,00001? Insomma, quanto più piccolo è il numero che vado a scegliere come base del mio logaritmo, purché maggiore di 1 naturalmente, perché abbiamo visto prima il numero 1 non va bene, bene, tanto più vicini saranno due numeri consecutivi e quindi tanto più piccolo sarà il numero, l'errore, scusate, che vado a commettere nell'andare ad identificare un numero nella mia colonna di destra della tabella dei logaritmi. Bene, molto bene. E va bene, allora l'ideale è aumentare il numero dei zeri che identifichiamo qui a precedere l'ultimo 1, aumentarlo sino a quanto? Boh, sino all'infinito ci piacerebbe. Aumentarlo tantissimo, il più possibile, il più possibile. Ma per capire cosa intendo dire con queste espressioni di aumentare all'infinito, proviamo a riscrivere il numero 1,01 in un altro modo. Sicuramente 1,01 lo possiamo anche scrivere come 1 più 0,01. 0,01 lo possiamo scrivere a sua volta come 1 fratto 100, 1 diviso 100. Va bene, ricordiamoci che quando compiliamo la colonna di destra della tabella dei logaritmi consideriamo del nostro numero le potenze, no? Potenza con l'esponente 2, con l'esponente 3 e così via. E quindi dovremo andare a considerare, per esempio, questa espressione elevata alla terza. Va bene, ci accorgiamo che l'esponente di 3 lo possiamo anche riscrivere come 3 moltiplicato 100 diviso 100, no? Se un numero lo moltiplico e lo divido per lo stesso numero rimane uguale a se stesso. Cioè ho riscritto questa espressione in un altro modo. Va bene, questa espressione la posso ancora vedere così, come 1 più 1 su 100 elevato a 100 il tutto elevato a 3 su 100. Va bene. Vedete come ricorre in questa espressione il numero 100, eh? Il numero 100 che mi sta ad identificare il numero di cifre decimali che ho dopo la virgola. Quindi se io invece di andare a considerare il numero 1,01 vado a considerare i numeri che meglio ancora riescono a approssimare tutti i possibili numeri nella colonna sinistra dell'ogarittomo, questa espressione come va a modificarsi? Ebbè, l'abbiamo capito. Nel caso di 1,00001 avrò questa stessa espressione, eh? In cui al posto del 100 avrò 100.000, cioè 1 seguito da 5 zeri, eh? Ci focalizziamo sulla parte che viene elevata ad un esponente molto piccolo, 3 su 100. Ci focalizziamo su questa parte e vediamo come varia man mano che aumentiamo il numero degli zeri, no? Che era il nostro obiettivo, ricordatevi, aumentare il numero degli zeri. E di nuovo, se ne aggiungiamo ancora 1, abbiamo un altro 0, eccetera, eccetera. Ma abbiamo detto che di zeri ne vorremmo il più possibile, al limite infiniti, al limite infiniti. E allora abbiamo 1 più 1 fratto un numero, il tutto elevato ad un certo numero. vorremmo che questo numero fosse il più grande possibile, al limite infinito. Insomma, che cosa vogliamo calcolare? Il limite per n che tende all'infinito di 1 più 1 su n, il tutto elevato ad n. Va bene. Boh, siamo arrivati ad un'espressione matematica che a molti di voi non sarà così familiare, però adesso vi faccio vedere come questa espressione matematica ammette il limite. Cioè, questa espressione è un numero, un numero ben preciso. Cioè, via via che vado a considerare numeri del tipo 1 più 1 su 10 alla 10, 1 più 1 su 100 alla 100, 1 più 1 su 1000 alla 1000, a lamentare di questo numero che ho detto al denominatore esponente sino all'infinito convergo verso un valore finito. Abbiamo visto in altri incontri questa convergenza dell'infinito nel finito e la vediamo anche in questo video come la vediamo con un esempio tratto dall'ambito economico. Supponiamo di avere una banconota da 100 euro e supponiamo di voler investire questa banconota su un arco temporale di un anno e di avere un rendimento pari al 100%. Quindi renderà a termine dell'anno 100 euro cui naturalmente andiamo ad aggiungere i 100 euro che avevamo all'inizio. Quindi alla fine dell'anno abbiamo in tutto un buon capitale di 200 euro. Questo tipo di rendimento come lo andiamo a descrivere? Beh, avevamo una banconota al termine abbiamo 1 più 1, banconote. 1 più 1. Consentitemi di scrivere questa espressione in questo modo. Siete d'accordo? Sono uguali, no? Se invece di scrivere 1 più 1 scrivo 1 più 1 diviso 1 che vale 1 e le levo il tutto alla potenza di 1 rimane sempre se stessa. 1 più 1. Va bene. Adesso però supponiamo di fare questa cosa invece di investire per un arco temporale di un anno la nostra banconota da 100 euro supponiamo di suddividere l'anno in due semestri e che il rendimento per ciascun semestre sia del 50% e quindi vediamo che cosa succede. Allora al termine del primo semestre che cosa avremo? Ebbene avremo il rendimento che è 50 euro non il 50% di 100 euro più naturalmente avremo la nostra banconota 150 euro quindi e quanto avremo alla fine del primo semestre che possiamo scrivere con questa espressione matematica la banconota di partenza una banconota più metà del valore di tale banconota uno più un mezzo che quando la banconota vale 100 euro diventano 150 euro. Va benissimo. Dopodiché trascorrono gli altri sei mesi e che cosa succede? Ebbene avrò che al termine dei sei mesi avrò sicuramente quei 150 euro che avevo alla fine del primo semestre quindi quell'uno più un mezzo e poi naturalmente avrò l'interesse cioè il 50% di questi 150 euro che rappresento iconicamente in questo modo cioè avrò cosa? La metà di quell'uno più un mezzo che in euro mi restituisce una cifra totale pari a 225 euro e matematicamente questa espressione si dimostra essere uguale a uno più un mezzo elevato alla seconda. Va bene. Dunque se io ho un intervallo temporale di un anno 100% guadagno 200 euro e l'espressione matematica che mi descrive questo processo è uno più uno su uno elevato ad uno altrimenti se ho due semestri guadagno 225 euro l'espressione matematica è uno più un mezzo del tutto al quadrato e se divido in tre periodi ebbè lo intuite se divido in tre periodi l'espressione matematica sarà uno più un terzo al cubo e se si prova a calcolare quanto avrò in tasca al termine dell'anno avendo investito 100 euro il risultato sarà un numero una cifra ancora di nuovo superiore rispetto alla precedente 237 insomma riassumendo ebbè conviene si suddividere l'intervallo temporale e approfittare del cosiddetto interesse composto se suddivido ancora un numero superiore del pari temporale per esempio 4 si arriva al termine dell'anno ad avere ancora di più 244 euro e quindi la tentazione qual è? la tentazione è di aumentarli questi intervalli temporali quanto? perché no? all'infinito all'infinito e chi sa se aumentandoli all'infinito quindi reinvestendo con continuità il nostro capitale non riusciamo a diventare dei piccoli paperon dei pamperoni che da un centino riesce ad avere un deposito pieno di monete sonanti attenzione in realtà quanto si guadagna realizzando questa suddivisione dell'intervallo temporale in infinite parti non è infinito è un valore finito perché è un valore finito? e ce ne accorgiamo intanto osservando di come la differenza tra guadagni ottenuti in step successivi di suddivisione dell'intervallo temporale va via via riducendosi vedete quando passo dal intero anno ai due semestri ho 25 euro in più quando poi passo dai tre periodi scusate dai due semestri ai tre periodi ho 12 euro in più quando poi passo hai quattro periodi ho solo 7 euro in più e va via via riducendosi il guadagno quindi la la somma guadagnata effettivamente aumenta ma aumenta sempre di una di una quantità che è via 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 più piccola per cui si presume che il valore che si guadagna tenda al limite a un valore finito non all'infinito sì sì è proprio così e allora come si fa? si calcola un limite matematico di un'espressione per capire a quanto tende questo valore ebbene il limite di quale espressione ebbene abbiamo visto prima abbiamo visto come potevamo matematicamente esprimere l'interesse nel caso dell'anno come uno più uno su uno elevato ad uno nel caso dei due semestri come uno più mezzo al quadrato nel caso dei tre periodi come uno più un terzo al cubo se sono quattro lo capite bene uno più quattro alla quarta in generale avremo uno più uno su n alla n e n numero degli intervalli temporali abbiamo detto lo facciamo tendere ad infinito e quindi avremo che matematicamente si calcola il limite per n che tende all'infinito di uno più uno su n elevato ad n che è proprio l'espressione non a caso naturalmente della quale prima cercavamo il limite e che adesso abbiamo capito che è un limite finito l'abbiamo visto quando abbiamo discusso della differenza dell'incremento di guadagno che va via via riducendosi fin a diventare nulla perché il valore tende a un limite finito ma questo limite finito qual è? Quanto vale? Ebbene l'analisi matematica lo si calcola e si ottiene un meraviglioso numero uno dei tanti numeri irrazionali che abbiamo già imparato a conoscere abbiamo già parlato di pi greco abbiamo già parlato della sezione aurea adesso parliamo del numero di eulero due birgola un numero infinito di cifre decimali non predicibili questa è la caratteristica quindi irrazionale il numero di eulero il numero di eulero che insomma abbiamo visto nascere sorge nell'ambito economico dell'interesse composto ma adesso ricolleghiamoci ai veri protagonisti di questa storia che sono i logaritmi e ricordiamoci di come siamo arrivati a introdurre questo concetto di limite limite per n tende all'infiato di 1 più 1 su n elevato ad n perché abbiamo riconosciuto che quella che è la base dei logaritmi ideale per poter ottenere delle tabelle di logaritmi che possibilmente presentino tutti i numeri nella colonna di destra e abbiamo visto questo limite dunque convergere ad un numero ben preciso e e quindi le potenze di e con numeri piccoli ad esponente perché vi ricordo che l'esponente veniva suddiviso per un numero possibilmente grande una potenza di 10 le potenze di e costituiranno la colonna di destra delle nostre tabelle di logaritmo e usando il numero e si che riusciremo a calcolare a identificare nelle tabelle un qualsivoglia numero per esempio il numero 18 che avevamo prima usato come caso come esempio ebbene lo troviamo lo troviamo e troviamo che il logaritmo in base del numero 18 è un numero ben preciso 2,89 insomma possiamo trasformare l'operazione di moltiplicazione tra due qualsiasi numeri consultando la tabella di e utilizzando i cosiddetti logaritmi naturali logaritmi che hanno base e come base il numero di olero si dicono logaritmi naturali che bella parola naturale dall'idea di qualcosa che non è puro artificio matematico ma che viceversa rispecchia la natura la sua evoluzione spontanea ebbene sì infatti il numero è un numero molto ricorrente in natura nei fenomeni di crescita per esempio le popolazioni di batteri crescono seguendo l'evoluzione lo sviluppo della funzione esponenziale della funzione esponenziale a base è avete come base il numero di eulero e non sono quelli naturali di crescita ma anche i fenomeni spontanei naturali di decrescita per esempio il decadimento radioattivo è regolato dal numero di eulero il numero di eulero la funzione esponenziale che ha questo grafico e che ha una caratteristica unica peculiare che è solo tipica del numero e di nessun'altra funzione esponenziale a diversa base sia con 0 2 elevata a x 10 elevata a x 9 elevata a x non avranno la caratteristica che sto per raccontare e la caratteristica è che la velocità con cui cresce questa curva in ogni punto eguaglia il valore della curva in ogni punto eguaglia il valore della curva ed è questo il motivo per cui la funzione esponenziale con base regola i fenomeni naturali di crescita perché perché sono fenomeni naturali di crescita in cui la crescita dipendesi dal tempo ma dipende anche dalla quantità di grandezza che in quel momento disponibile più batteri o più velocemente cresceranno accanto a questa caratteristica della velocità di crescita un'altra caratteristica che è peculiare solo nella funzione è che anche l'area sottesa dalla curva in ogni punto coincide col valore della funzione insomma è un valore è una funzione questa che ha qualcosa di miracoloso vorrebbe dire qualcosa di che richiama la perfezione estetica e naturalmente scusate gioco di parole la naturalezza insomma ispira il numero è davvero meraviglia e potremmo aggiungere che è una sorta di funzione zen se vogliamo infatti nella sua ricerca di crescita ebbene è sempre in perfetto equilibrio senza mai oltrepassare in eccesso e in difetto ciò che si è guadagnato grazie e arrivederci grazie a tutti